Quanti di voi? Cerchio Ifior, attraverso Tullia e Gian, L'Uno e i Molti, Volume e Ottavo, Michel. Eppure, ragazzi miei, se voi riusciste a fare un'analisi retrospettiva, quantomeno coloro che da più tempo partecipano a questi incontri, di ciò che erano e di ciò che oggi sono, in realtà potreste dimostrare che un fenomeno c'è stato. Quanti di voi effettivamente, grazie a questi incontri, e notate quanta umiltà nel dire grazie a questi incontri e non alle nostre parole, sono cambiati. Quanti di voi hanno raggiunto perlomeno una certa tranquillità interiore, riuscendo così ad affrontare la difficile realtà nel modo migliore. Quanti di voi, nonostante apparenti delusioni, hanno continuato a venire ad ascoltare le nostre parole e sono riusciti a modificarsi. Questo, se voi lo analizzaste un pochino più attentamente, in realtà sarebbe un grande fenomeno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.